ciao a tutti questo video è l'obiettivo di introdurre il giocatore tra virgolette iniziale ai giochi da tavolo come fare per scegliere un gioco da tavolo come acquistare tra virgolette sicuro e quindi senza buttare i soldi allora innanzitutto partiamo io direi di partire anche da un sito che è fondamentale a mio avviso lo spill degli ares cercate su google spill degli ares e scoprite che cos'è lo spill degli ares è in germania il gioco dell'anno quindi il più votato il più piaciuto sicuramente se il gioco compare in questa lista per i primi soprattutto per i primi giocatori sarà quasi una garanzia che vi piacerà un altro consiglio non fateli addindolare dalle novità perché ci sono giochi vecchi come il cucco che sono veramente molto 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 belli io dei giochi li ho pagati 5 euro 3 euro ed erano dei giochi stupendi tipo einstein tipo tickle che poi è uscita fuori la riedizione comunque partite dal presupposto che l'ultimo gioco non è il più bello ma ce ne sono molti di tutti i tipi di tutte le categorie per capire se un gioco vi piace l'unica maniera per essere certi è capire il gioco e se possibile giocarci e questo è possibile anche in maniera gratuita allora come si può fare allora innanzitutto come vi dicevo questo sito ha una lista se voi scorrete dal 1979 ha una lista di un moltissimi giochi e qui ne troverete veramente tanti da veramente veramente molto belli ok e guardate anche date come vi dicevo anche parecchio parecchio vecchio non non abbiate paura di andare indietro un particolare attenzione al kenner spill lo spill di jares è più per famiglia il kenner spill sono giochi un po più difficili un po più di livello tra virgolette ma senza comunque senza senza andare sul diciamo molto complicato allora poi come fare per per non spendere soldi e giocare con giochi da tavolo allora sulla tanna di goblin ci sono è presente una sezione per giochi da tavolo fai a te si chiamano print and play se cercate su google la scritta print and play facciamolo subito vi comparirà una scritta lei vi comparirà ma anche su facebook c'è un mondo dietro questo questi questo tipo di giochi e sono giochi fatti da autori dati gratuitamente quello che vi farà stampare il regolamento e quello che vi servirà di tabellone di distruzioni per poterlo creare il gioco ovviamente mancherà le pedine se occorreranno ma ne so ce ne sono molti carini ecco bene uno in particolare è uscito e ci ha avuto parecchio successo è uscito proprio il gioco da tavolo costava anche abbastanza direi ma perché ci aveva anche molto materiale e si chiama baste forse lo conoscerete non è uscito da tantissimo era un print and play se non vado errato poi un altro modo per per andare a conoscere i giochi sono youtube i video manuali ne trovate a bizzeffe ok video manuali giochi da tavolo e qui ne trovate veramente veramente di molti se avete un nome in particolare proviamo quarto ricco video manuale e vediamo se c'è eccolo qui quindi senza comprarlo vedete anche delle scene di gioco o altro e se volete veramente giocarci ci sono anche dei siti che vi permettono di giocare a basso costo addirittura gratuito ad esempio uno dei siti più famosi è board game arena un altro è brett spilwell qui un po più difficile in come si dice inserirsi perché parecchie parole sono in tedesco però è abbastanza intuitivo se se ci si prende mano vi posso garantire che dà la sua soddisfazione poi ve ne ve ne indico un paio che sono abbastanza appetibili che è tabletopia e tabletop simulator questi hanno degli abbonamenti e però sono molto famosi per quale motivo perché molti autori di giochi prima di pubblicare i giochi in pratica introducono all'interno di questi siti il loro il loro play test in pratica loro la prima copia di questo gioco e fanno delle prove anche con con ecco i giocatori di questi siti si prenotano ci si mette d'accordo e si gioca questi qui sono un po più macchinosi per quale motivo perché rispetto a un esempio a board game arena o brett spilwell non ha una meccanica automatica ovvero quando tu clicchi su una cosa la fai in automatico ma qui è tutto proprio manuale proprio come se stessi giocando su un tavolino reale e quindi spostando con la mano virtualmente ma tu sposti pedine virtualmente quindi devi prendere foglio carta e penna ti devi ricordare di quello che fai i punti che fai in ultimo direi proprio che abbiamo finito era una semplicissima panoramica per per darvi ecco qualche informazione su introdurvi in questo mondo buon gioco a tutti allora